Vieni qui perché mi piace il posto, perché le belle arrivate, il sole si mangia bene, roba genuina, un posto magnifico, posso dire che solo l'arrivare qua è già un levarsi dallo stress quotidiano e questa è una cosa fondamentale, ma per varie ragioni, solo lo spettacolo è di poter guardare da questo punto il paese di Vieste sulla mia destra e questo pezzo di montagna che se si fosse mantenuta senza incendio sarebbe stata ancora più bella, perché era piena di verde in una maniera incredibile, le rocce, il colore del mare, dovunque tu guardi qui ancora riesci a riscoprire la natura e questa è una cosa fondamentale, se poi ti avvicini al mare riesci a vedere ancora che è popolato da pesciolini, da granchi, conchiglie, riesci ancora a trovare delle conchiglie, quelle come queste, c'è pieno di conchiglie piccoline e poi qui anche quando c'è il caldo più forte c'è sempre ventilato, per cui non riesci a startene benissimo e non vorresti più andartene via dalla spiaggia, in più un'altra cosa meravigliosa è che hai un pezzo per il camping Euro 92 a tua disposizione senza la fila di ombrelloni tipo Rimini per capirci, che sono la cosa più assurda che per me è e poi c'è qualcun altro che magari li gradisce, però il poter avere un pezzo di spiaggia così libera per te è una cosa impagabile. Sono stato uno dei primi a frequentarli e continuo sempre a frequentarli, fino a quando era un bacaccio non fuori, in realtà perché lo paghiamo? Per il mare, per il clima, la cordialità spero anche della gente e forse anche un po' per il caffetto. Quest'anno abbiamo deciso di venire in Puglia e abbiamo scelto Vieste perché conoscevamo più o meno la zona e abbiamo detto lì ci troviamo bene e siamo venuti a quest'anno. Il paese è bello, più o meno l'acqua è turista e questo è principalmente per il paesaggio. E' arrivata la bottega della frutta, vietole, ciccola, bruncola, peperoni e altri ortaggi di nostra produzione, pesche, percocche, anguria, meloni, prugne, pere, arance. Per giocare a palla, per giocare in bicicletta, l'acqua è pulita o sporca? Con l'acqua pulita, molte volte anche sporca e poi... Perché mangiamo bene? Perché mangiamo bene. Grazie a tutti! Ho parecchi anni che vengo qua all'Euro 282 perché mi trovo abbastanza bene e poi ho un bel posto, ho ombra e tutta una serie di cose. Vengo qua da tre anni perché è pulitissimo e con i bambini è la cosa fondamentale. Poi è tranquillo, mi sono sempre trovata bene, con visione familiare, persone eccezionali. Il mare è qua davanti, tutte le comodità mi trovo bene. E ci sono stati particolari che qua è tranquillo e ha pulito. Sono venuto qui il primo anno e mi sono trovato bene, bellissimo posto, tranquillo, con la mia piccola moglie qui e è sempre ritornato lì. Sto bagnato. Anni, metti un po'. Io non mi sento a fare una gamba. Io neanche. Io mi sento a disagio. Invece la signora che mi dice? Che devo dire? Che sto bene, sto in vacanza, mi piace. E torneremo. L'anno prossimo. Speriamo, no? Speriamo. Tutto va bene. Mamma, 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 mamma. Qui all'Euro 92 trovi la pace e la tranquillità, torni ad essere te stesso, torni ad amare il tuo essere, qui all'Euro 92 dove la pace e la tranquillità, torni ad essere padrone del tuo tempo, torni a vivere e anche se per pochi giorni, anche per un giorno, questo ti dà una carica, un modo di tornare a vivere la vita normale, frenetica, con più lena, con più amore. Perché l'Euro 92? Perché ci siamo noi e perché qui ci si trova bene, si sente in famiglia, si sente a casa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.